Sono molto contento di essere venuto qua, è una piazza molto importante, sicuramente siamo un grandissimo gruppo e puntiamo a fare bene questo campionato. La trattativa era già nata un po' di tempo prima, soltanto alcune cose burocratiche mi hanno impedito di venire qua e alla fine per fortuna si è sbloccato il trasferimento e sono riuscito a venire qua. Io sono un centrocampista che a me piace giocare come mezza alla sinistra, però posso giocare in qualunque ruolo di centrocampo, non c'è nessun tipo di problema. Sicuramente fare bene in generale, è importante la squadra, poi gli obiettivi personali se si fa bene vengono.